in questo flash tips su Edmodo vedremo invece altre due opportunità che ci consente questo social network didattico vale a dire quiz e sondaggio questa è l'home page nella quale mi trovo dopo aver fatto il login clicco su quiz, ecco qua e subito mi propone di creare un quiz oppure sceglierlo dalla raccolta di quiz già usati per altre classi clicco su crea un quiz ecco qui e mi dice il titolo innanzitutto e io scrivo quiz di prova limite di tempo 60 minuti mi propone io scelgo 45 minuti e poi aggiungi quesito tipo risposta multipla vero o falso, risposta breve, scrivi uno spazio vuoto corrispondenze, scelgo risposta multipla aggiungi il primo quesito qui inserisco, ecco qua, inserisco il testo della domanda e poi posso eventualmente allegare dei link o dei file presenti nella mia biblioteca, nella mia library che è questa e poi le risposte io scrivo risposta A ad esempio e stabilisco che è corretta poi risposta B oppure posso scegliere che la B sia come corretta e quindi diventa verde aggiungi risposta perché magari è su base 3 risposta C in questo caso posso anche eliminarlo in questa maniera io dopo aver fatto tutte le mie domande ecco qui, questa è la domanda 1 ma posso aggiungerle cliccando qua ecco la domanda 2 dopo aver fatto tutto clicco su fatto ecco qua come vedete in alto nella pagina in alto di Edmodo compare un avviso in rosso dice il quiz presente degli errori non può essere assegnato perché? perché se avete visto io ho inserito una seconda domanda poi però non l'ho compilata in questo caso bisogna necessariamente compilare tutte le parti e quindi io per esempio scrivo inserisco il testo della domanda numero 2 risposta A1 risposta B2 risposta C4 in questo caso posso anche stabilire il punteggio delle varie domande ecco qua testo domanda 2 la prima risposta può essere un numero poi un altro aggiungo una risposta per farlo simile al precedente un'altra ancora ecco qui la risposta esatta è A e io posso vederne un'anteprima ora ho fatto posso anche iscrivere dell'impostazione sul quiz dopodiché clicco su fatto e il quiz è pronto vediamo infine il sondaggio il sondaggio è ancora più semplice qui inserisco inserisco il testo del mio sondaggio ad esempio un testo di gradimento dove la prima risposta può essere poco la seconda abbastanza la terza molto la quarta moltissimo scelgo sempre la classe di prova che è quella a cui voglio inviarlo dopo aver fatto tutto clicco su invia e in questo caso il sondaggio è online come vedete ecco qua ecco il mio sondaggio che peraltro si popolerà di risultati in tempo reale mano a mano che verranno inseriti e questo invece è il compito che abbiamo inserito precedentemente